residenti chiusi in casa commercianti sul piede di guerra è un centro che si sta spopolando quello che raccontano le mille firme raccolte contro il prolungamento della ztl avviato da due mesi in via sperimentale dall'amministrazione giordani arrabbiati residenti come questa signora che ha dovuto cambiare le sue abitudini sono costretta a uscire in macchina anche per andare a messa sono costretta a fare le mie commissioni di mattina perché al pomeriggio c'è un'atmosfera di desolazione sinceramente non mi sento sicura e poi è difficile ricevere visite non posso far venire nessuno a casa mia la mia casa è chiusa non posso più invitare non so mia cognata mia zia perché non abitano in centro e quindi hanno difficoltà a venire delusi arrabbiati soprattutto dalla mancanza di dialogo della giunta è la protesta dei commercianti e dei residenti ecco questa è la loro protesta che deve essere ascoltata perché la promessa in campagna elettolare era mai più iniziative presa a tavolino le nostre iniziative che riguarderanno la città di padova saranno prese saranno concordate saranno ascoltati i cittadini saranno ascoltati chi chi vive in città ciò non è accaduto una protesta che arriva da chi in centro lavora e che richieste ben precise il cuore pulsante della città deve essere accessibile a tutti altrimenti abbiamo visto in questi due mesi di sperimentazione che la gente preferisce andare da altre parti quindi ci troviamo un centro totalmente desertificato perché ci sono noi abbiamo un parcheggio grande che è in fase poi di fine di restauro per cui un parcheggio importante però se la gente non sa che può parcheggiare non arriva quindi noi chiediamo all'amministrazione una comunicazione specifica sui parcheggi e sulle strade da fare per arrivare al parcheggio